ma non possono sapere cosa succede infatti siamo live siamo live eccoci qua peraltro mi hai fatto venire un flash mentre mi raccontavi di quando noi ci siamo visti in altre epoche altre epoche io una volta quando tu eri eri a capo di BNL giusto? e c'era tipo un'iniziativa su cui ovviamente noi volevamo trovare sponsor e quindi eravamo venuti a bussare la porta per trovare uno sponsor e mi ricorderò sempre che tu avevi lì tutta una serie di robe di tennis tennis, 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 cioè avevi tennis da tutte le parti non so se perché era BNL lo sponsor dell'internazionale d'Italia una roba così esattamente ricordi bene, uno sono appassionato di tennis ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni in BNL e BNP Paribas che è un po' lo sponsor storico del mondo del tennis sponsorizzando vari vari tornei in giro per il mondo ma sei appassionato di tennis e giocatore nel senso che poi te la cavi o solo appassionato? no no, gioco, mi piace mi diverto, giocavo tornei a livello più agonistico quando ero a liceo diciamo poi è rimasta una passione mi diverto con gli amici e con i miei figli rovescio a una mano o bimane? a una mano però ho cambiato l'impugnatura del diritto la western se tu giochi tra l'altro so che ero un campione di ping pong sai che la western è stato un grande trauma i miei amici mi prendono ancora in giro perché per tre anni non la buttavo di là poi è entrato quando entro è una bella palla ma quindi sei più di rotazione adesso? sei più un bel topone penetrante? un bel topone allora ho trovato questo titolo che sai ho sempre il problema che quando faccio un video devo mettere un titolo però non sapendo bene di cosa parlerò con l'ospite ogni volta improvviso il titolo allora ho messo un titolo così occhio e te lo faccio vedere banche finanza economia e dintorni dove a quel punto dintorni è tutto qualunque cosa con Fabio Gaglia tac eccolo qua il titolo parliamo dei dintorni esatto parliamo dei dintorni ma tu stavo guardando prima hai hai visto dall'interno e vedi dall'interno veramente una marea di realtà grandi grandi cioè è vicino ad ognuna in un tuo profilo c'era è nel board di questa azienda che fa 7 miliardi all'anno e poi in quest'altra che fa 5 miliardi cioè sotto il biglio non c'è niente praticamente e quindi hai detto caspita insomma è una è un posto della situazione non indifferente che idea ti sei fatto in questo momento della situazione è una situazione ovviamente caratterizzata da una grande incertezza per i motivi che purtroppo conosciamo tutti anche se non siamo esperti di economia in qualche modo siamo stati obbligati a diventarlo emergenza sanitaria e adesso emergenza economica penso che avremo dei mesi ancora difficili ma soprattutto complicati per capire bene quella che sarà la velocità di uscita da questa da questa situazione per mettere anche in evidenza alcuni segnali positivi e di poche ore fa la notizia dagli Stati Uniti che hanno diciamo che la disoccupazione è scesa di un punto che ci sono stati alcuni milioni di nuovi assunti nel mese di maggio proprio i settori che avevano patito di più in economia marzo-aprile hanno ripreso però dobbiamo anche ricordare che l'economia statunitense è quella per definizione più flessibile è quella più facile nel mandare a casa la gente ed è quella anche più rapida nel portarli nel portarli a bordo parlando con molti imprenditori osservando un po' di realtà industriali e di servizi in Cina diciamo l'attività comincia a tornare verso la normalità una normalità ancora ridotta a partire dai beni di lusso ma non solo anche nel mondo industriale Corea si sta rimuovendo per cui diciamo che abbiamo adesso queste settimane di uscita dal lockdown che saranno cruciali per vedere quella che sarà la nostra capacità di reazione qua in Europa con sicuramente alcuni segnali incoraggianti che arrivano anche dalle iniziative che sono state prese sia dalla Banca Centrale Europea sia a Bruxelles ma secondo te io mi sono fatto questa idea Fabio dimmi se è una cazzata o meno mi sono fatto l'idea che sarà più veloce di quello che immaginiamo cioè prima ad esempio stavo facendo una call e mi hanno chiesto sugli eventi ma gli eventi ormai se ne riparla tra un anno e un mese fatto avrei detto sì sì guarda dimentichiamoci gli eventi per un anno oggi ti direi insomma mi sembra che sia un po' più veloce ecco l'accelerazione non so se è una se è un mio bias cognitivo che voglio credere che sia così questo può essere oppure se se magari invece c'è qualche segnale non so cosa vedi tu ma ti direi i mercati sembrano indicare una ripresa piuttosto rapida parto dai mercati perché sono sempre in qualche modo un indicatore poi penso anche che questi mercati abbiano ribalzato in questa maniera così violenta anche perché sono stati aiutati dalle politiche monetarie messe in campo da tutti i governi quindi c'è moltissima liquidità i tassi sono negativi e quindi la gente non sapendo dove mettere i soldi in qualche modo ritorna forse in maniera più selettiva rispetto al passato sulla borsa e sulle aziende per quanto riguarda invece l'economia io io sono uno sempre positivo e cerco di guardare con realismo però anche con fiducia penso che sapremo superare questa crisi non so dirti onestamente se ci metteremo 12 mesi se sarà V W W una L però penso che uno in quei paesi che hanno in qualche modo attraversato il lockdown progressivamente le cose stanno andando a posto e ho citato prima l'Asia se vediamo il traffico in autostrada non ho i dati proprio gli amici di autostrade o di altri gruppi ma comunque si vedono ormai nella città le cose si stanno muovendo quindi io penso che ne usciremo sarà dura ma sarà dura soprattutto per alcuni settori che dovranno risentire purtroppo necessariamente di alcuni impatti più duri più profondi rispetto ad altri quindi il mondo dell'ospitalità potrebbe risentire finché almeno non c'è una chiara direzione o sul vaccino o su una terapia per cui il mondo dell'ospitalità che si declina attraverso varie attività penso al mondo dell'auto magari escludendo la fascia proprio alta non forse altro perché c'è un invenduto impressionante se uno guarda il mondo dal satellite vede i piazzali vicino alle fabbriche oppure quei piazzali che vengono presi nei centri logistici messi un po' in giro per il mondo che sono pieni d'auto quindi anche solo smaltire questo prima di produrre di nuovo però trovo molto coraggianti il dato che ho citato prima sull'economia statunitense quindi penso ne verremo fuori non ne verremo fuori ecco questo è importante non tutti ne verranno fuori con la stessa velocità non tutti ne verranno fuori con la stessa velocità e qua dipenderà ovviamente anche dalle caratteristiche strutturali di ciascun paese e dalle diciamo misure straordinarie che sono state poste in essere e quella che sarà l'efficacia di queste misure peraltro hai dei settori che sono assolutamente anticiclici non so cioè la crisi non gli fa un baffo parlo sempre del tech però avevo visto una notizia invece stamattina ti do il dato guarda il dato pazzesco il settore del dating online ok tinder ho visto il dato che hanno rilasciato il 29 marzo è stato il più grande giorno nella storia dell'app con 3 miliardi di swipe a parte che uno mi deve spiegare durante il lockdown che cosa swipe a fare su tinder ma quello diciamo è un concetto diverso però ci sono portati avanti ci sono portati avanti per il dopo così quando escono sono già pronti hanno tutti i loro appuntamenti però voglio dire 3 miliardi sono tanti significa che proprio la gente è lì e alcuni settori non c'è modo di scastrare ho visto zoom ieri la trimestrale di zoom 329 milioni fatturato una crescita stratosferica insomma quindi hai dei settori che oggettivamente sono forti quali sono altri settori che tu vedi messi bene in questo momento tutto il mondo in generale della tecnologia non solo non ha patito ma è quasi in buona parte sopra i massimi che avevano già passato d'altronde se uno guarda alcuni business pensiamo al cloud oggi se noi non abbiamo il cloud se non abbiamo la fibra se non abbiamo le torri i data center tutto quel mondo che ormai è appannaggio non solo di alcune telecomunicazioni di aziende telecomunicazione ma soprattutto dei grandi giganti californiani odisiato nel caso di Amazon da Amazon Web Series tutto quel mondo lì è destinato ancora a crescere e sicuramente anche aiutato nelle prospettive dal fatto che sempre di più si dice si andrà meno in ufficio e se lo lavorerà più da casa e quindi anche questo alimenta aspettativi io credo che in realtà non sarà poi così perché penso che l'ufficio abbia una sua centralità e che sia impossibile creare una cultura aziendale come l'abbiamo conosciuto finora stando semplicemente in chiave diffusa certamente si può creare anche una cultura diversa in maniera diffusa ma penso che alla fine la gente abbia voglia di socializzare e ci sia ancora un valore importante nel stare insieme ogni tanto vedo alcuni iscritti che preconizzano un futuro ormai tutto a distanza tutto in remoto sicuramente avremo anche un modo diverso di interagire forse anche gli spazi verranno divisi in maniera diversa ci saranno delle implicazioni strutturali di quello che abbiamo vissuto ti prendo un paio di domande al volo dalla chat a caso Vittorio Sivori Sivori c'era il calciatore è vero Omar Sivori me lo sono inventato io non so niente di calcio Fabio ma Omar Sivori giocava sarà magari un parente di Sivori Vittorio Sivori buonasera Dottor Gaglia dice Dottor Gaglia la ripresa dei mercati sembra stia seguendo una curva a B V crede che ci sarà una ricaduta pesante o i mercati continueranno a salire in modo così verticale Fabio apri la sfera di cristallo e dici tra nove mesi cosa succederà non ci crederei ma io qua che mi tiene il telefonino una specie di sfera di cristallo che faremo bene però non mi dice molto quindi quello che posso dire è che che reputo un po' pericolosa questa ripresa così violenta che incorpora secondo me tante buone notizie non incorpora il rischio che la ripresa come dicevamo prima sia più lenta che ci possano essere quindi delle implicazioni anche strutturali più profonde non vi è dubbio che se avessi ovviamente una risposta continuerei a fare l'investitore e forse parleremo direttamente qua con un altro cappello che quello dell'investitore però penso che ci sarà molta molta selettività e quindi raccomanderei in generale prudenza perché questa ripresa via dei mercati io penso che non si verrà seguita da una ripresa via dell'economia ci staranno alcuni settori a via uno l'abbiamo toccato prima c'è il farmaceutico c'è il biotech prima o poi alcuni settori partiranno ma sarei stupito se da qua i mercati salissero ancora e non ci fosse una fase di stabilizzazione o addirittura di una fase di ribasso che poi a quel punto permetterà anche di guardare nella ripresa dell'economia tra qualche mese e capire che tipo di dimensione e intensità prende dimmi Fabio diciamo passando ad un argomento più tuo personale sono curioso di capire com'è il mondo delle banche visto dall'interno tu che l'hai vissuto all'interno ai livelli più alti cioè hai visto proprio diciamo il cuore del sistema economico italiano spesso magari io penso le persone che sono in chat un utente normale che fuori dai meccanismi bancari non ha la più palida idea di come funzionino e ha tutta una serie di sue idee tipicamente le banche sono dei bastardi che ti cucano il grano tendenzialmente c'è sempre un pregiudizio anche nei confronti delle banche oppure hai un buon rapporto se con la persona che ti segui in banca c'è un buon rapporto cioè è molto emotivo ecco il rapporto con le banche invece il dietro le quinte viene sempre un po' poco compreso e raccontato aiutaci a capire come funziona ecco cioè se tu sei alla guida di una banca come funziona quali sono diciamo gli aspetti più complicati o diciamo i falsi luoghi comuni che ci sono che magari hai sentito in questi anni dacci così una fotografia dall'interno guarda se vuoi faccio un passo indietro per poi arrivare le banche e ti dico che quando io mi sono laureato dopo una veloce parentesi in una società di consulenza Accenture all'epoca non si chiamava così ho iniziato in finanza e proprio quando mi ero laureato non so quante offerte avevo ricevuto stiamo parlando fine degli anni 80 da parte di banche tra l'altro le banche non si erano ancora fuse fra di loro per cui mi sono arrivate credo 20 30 offerte e io non solo non sono mai andato ma pensavo mentre lavoravo negli anni 90 in finanza ho detto non andrò mai a lavorare in banche perché mi piaceva la finanza la finanza degli investimenti era tutto un modo anche perché mi sembrava un mondo che era rimasto un po' vecchio rispetto anche a quello che si percepiva in termini di dinamismo di apertura di internazionalità anche solo 20-25 anni fa tant'è che c'era la famosa definizione di foresta pietrificata la banca era considerata una foresta pietrificata perché perché sostanzialmente molte erano pubbliche non c'era concorrenza la concorrenza e secondo me ho la sindrome di monopolio la sindrome di un forte oligopolio è un male per i consumatori un male per l'economia ed un male anche per le stesse aziende perché non hanno lo stimolo di andare a capire certo quando poi mi sono trovato nel 2002 a un vivo della mia vita continuo a fare l'investitore avevo la possibilità di andare a lavorare o in hedge fund o in private equity soprattutto a Londra o di fare un'esperienza lavorativa in una grande organizzazione ho poi optato per questa seconda strada e sono entrato in banca sono entrato quello che era il gruppo Capitalia e arrivando ad una realtà molto più piccola molto più snella ma volendo per certi versi anche molto più sofisticata che era il mondo della società di gestione dei risparmi quindi il mondo degli investimenti da una realtà privata quindi con una famiglia che stava sul pezzo tutti i giorni cultura imprenditoriale mi sono trovato in un'ex banca pubblica privatizzata da poco con 25.000 colleghi e tante cose da fare e sto parlando del 2002 da lì in poi tante cose sono successe non solo per il sottoscritto sono successe per il mondo bancario il mondo bancario è cambiato perché sono cambiate le regole hanno introdotto la concorrenza e sono cambiati gli uomini è cambiata la cultura e se dobbiamo vedere un po' il giudizio sulle banche penso che storicamente non abbia giovato la mancanza di concorrenza e qua vado veramente indietro negli anni vado indietro appunto al periodo in cui sono entrato perché si vedeva benissimo che bene o male il cliente rimaneva come hai detto tu sticky rimaneva comunque in qualche modo fedele c'era meno possibilità anche a regolamentare di spostare i conti di spostare i mutui nel giro di pochi anni sono arrivate tante cose che hanno liberalizzato il mercato creato più concorrenza e poi è arrivata la crisi con un nuovo insieme di regole che sono quelle di Basilea per chi è più tecnico che hanno cambiato completamente il modo di fare banche io spesso dico che sono quasi due sport diversi aver fatto banca prima e dopo ma la comunità è fatta di persone ovviamente che lavorano come in qualunque altra azienda avendo un regolatore e avendo un regolatore giustamente molto invadente molto presente è un business che ha dei livelli di complessità maggiore rispetto ad altri non ne ha magari rispetto al mondo dell'industria meccanica perché noi facciamo servizi ma a parità di business e di servizi il fatto di essere regolati pone molti più vincoli e quindi rende per certi versi meno agili il movimento venendo alle colpe che sono state editate non c'è dubbio che una certa finanza se andiamo al mondo prima di Lehman che era più quella del mondo dell'investment banking di alcuni fondi di investimento avevano secondo me perso controllo con quella che doveva essere una sana cultura imprenditoriale di lungo periodo purtroppo c'erano dei meccanismi infernali fra rischi assunti bonus pagati e totale di responsabilizzazione che abbiamo visto quello che è successo quindi poi occupai Wall Street tutto quello che è successo perché purtroppo la banca non è un'azienda come altre se ha dei problemi se fallisce ci sono dei riverberi importanti sull'economia e in quel periodo lì 2008-2009 il mondo ha rischiato di collassare la cosa buona oggi è che uno le banche sono profondamente cambiate cambiate proprio la cultura per definizione non vale per le banche ciascuno deve fare sempre di meglio e quindi questo non vuol dire che non ci siano ancora spazi di miglioramento però è importante anche ricordarle soprattutto in questo momento che le banche in genere in giro per il mondo non soltanto quelle italiane ma certamente anche le italiane stanno affrontando questa crisi con una posizione di capitale una robustezza e anche diciamo una robustezza di liquidità completamente diversa rispetto con cui si è entrata nella crisi di Lehman e del debito sovrano ma perché questo? perché grazie alle regole le regole che quando ero in banca sembravano sempre tante troppe e in effetti poi c'è vari modi ci sono vari modi per declinare le regole forse negli Stati Uniti hanno hanno più o meno ottenuto gli stessi risultati di rafforzamento patrimoniale io penso che gli Stati Uniti siano in generale molto più pragmatici nel fare business però proprio grazie a quelle regole che hanno obbligato le banche a rafforzarsi patrimonialmente e a porre in essere tutta una serie di altre misure non vi voglio annoiare perché è meglio parlare dei dintorni che non dei banche forse proprio grazie a quelle regole oggi le banche in Italia in Spagna in Europa hanno una posizione di solidità che permette di affrontare questo momento estremamente complicato estremamente difficile da una posizione una posizione diversa e molto più solida rispetto al passato quindi bisogna dire regolamentazione sacrifici anche chiesti agli azionisti ruolo del management e devo dire di tutti i colleghi perché poi alla fine tutti chi ha lavorato in banca in questo periodo prendi qualunque titolo italiano qualunque azienda italiana che esportasse dal 2009 al 2010 in poi ha conosciuto un decennio straordinario chi ha lavorato in banca ha conosciuto soltanto recessione costo del credito e regole quindi proprio anche l'umore di chi lavorava in banca era di un business che andava così e tu lavoravi in qualunque scegli tu un'azienda che esportava visto che il mondo è cresciuto in questi dieci anni e avevi una dinamica completamente diversa però è importante quello che dicevo prima è importante sapere che abbiamo un sistema più solido più solido più strutturato e tutto questo movimento del fintech con le banche online le banche digitali i robo-advisor per investire come lo vedi? Lo vedo molto bene perché è un ulteriore stimolo innanzitutto ai cosiddetti incumbent quindi alle banche in primis perché comunque sia possono offrire dei servizi che sono molto più fruibili molto più semplici per i consumatori per cui non c'è dubbio e tant'è che ormai da più di dieci anni molte aziende hanno cominciato anche loro con tutti i vincoli che ha una grande organizzazione a partire dal sistema informatico lo dico in maniera semplice dal sistema informatico tutte le banche hanno iniziato a investire in competenze spesso in acquisizioni o in partnership per cercare di capire poi in tanti paesi un po' più avanti di noi si vede che cominciano a avere anche un'incidenza importante a livello competitivo nel senso diventano dei very player nel peer to peer lending nel sconto di fatture sia nel mondo retail dai sistemi di pagamento ai piccoli prestiti sia anche nel mondo delle aziende quindi io penso che questo sarà un trend che andrà avanti e che di nuovo questo business bancario in questi anni fa la recessione le regole e i cambiamenti tecnologici quindi i nuovi concorrenti che sono arrivati ha avuto un triplo impatto straordinariamente forte che sta che sta ponendo le banche oggettivamente sotto forte tensione sotto pressione una domanda molto tecnica di Gabriel Dumitru ti chiede cosa rappresenta il quadro dietro di lei in effetti mi piace molto quel quadro che c'è lì dietro che cos'è peraltro scusa dopo aspetta è venuto un flash pazzesco che dopo appena finiamo la chiacchierata parlo con io con i nomi sono sono pessimo ma adesso te lo dico lei è Alessia Zurloni e parliamo del mercato dell'arte la valutazione delle opere d'arte eccetera eccetera quindi insomma dopo chiedo anche a lei in base a quello che mi dici poi le chiedo che cos'è questo è l'archivio del Banco di Napoli è la foto di un fotografo che si chiama Massimo Listri in fiorentino ed è stranamente l'ha comprata mia moglie le piaceva in combinazione c'è la banca vedi a proposito è l'archivio il vecchio archivio del Banco di Napoli ah ok ok se l'ha comprata la tua moglie è sempre bellissima io parto sempre da questo presupposto ecco non c'è nessuna possibilità di entrare a me piace peraltro mi piace mi piace mi piace allora Giovanni invece di Grazia ti chiede vorrei chiedere a Fabio quali interventi nazionali devono essere attuati per rilanciare al meglio il tessuto imprenditoriale e come le banche possono essere di supporto ecco di tutte le misure che sono state annunciate e o prese perché poi c'è sempre differenze insomma tra anche nella tempistica e la tua azione che idea ti sei fatta e secondo te che cosa andrebbe fatto ancora se c'è qualcosa che andrebbe fatto ti risponderei in due atti primo l'Italia è inserita dentro una comunità che si chiama Europa l'Europa a mio giudizio e nel corso di questi ultimi tre mesi ha agito con un tempismo e con un'incisività che non erano conosciute prima se andiamo a vedere quanto tempo ci hanno messo da Lima fino alla crisi greca che poi è durata ancora qualche anno per prendere decisioni che sembravano ovvie non solo a noi operatori ma comunque osservatori economisti noi oggi avessimo usato lo stesso tempistica lo stesso approccio saremmo una difficoltà enormemente superiore quindi l'Europa a partire dall'autorità monetaria ma anche quello che è stato fatto a livello di commissione sono elementi fondamentali e questo lo dico perché non possiamo pensare di uscire da soli da questa situazione chi pensa anche solo di poter dire non sa di cosa parte quindi è importante e lo sottino con piacere si può sempre fare di più io penso che l'Europa sia passata da fare un passo avanti e due indietro progressivamente a farne due in avanti e due indietro in quest'ultimo mese come ha fatto quattro passi in avanti abbiamo bisogno di dieci passi abbiamo bisogno di un balzo senz'altro però comunque sia importante è importante riconoscerlo perché c'è stato un cambiamento due scusa Fabio scusa se ti interrompo Fabio e quando dici sarebbe impossibile uscire dall'Europa proprio dal punto di vista economico dici non potrebbe essere sostenibile senza l'aiuto dell'Europa proseguire per un paese tipo l'Italia noi essere fuori dall'euro è una distopia non è un'utopia ok è impossibile è impensabile e credo credo che ci sia purtroppo diciamo facilità di giudizio letture commenti quando poi noi in realtà abbiamo bisogno di stare in questo albo è molto importante che poi l'Europa deve migliorarsi è tutta una discussione e sono il primo a aver sottolineato adesso che non è andata bene come hanno gestito in termini di tempestività incisività la crisi precedente basta vedere la velocità di uscita dall'Europa rispetto a quella degli Stati Uniti anche solo dell'Inghilterra quindi è evidente che l'Europa è fatta è come un'azienda è come un'azienda con 27 amministratori delegati ci va il presidente che sappia sintetizzare bene parlano lingue diverse hanno interessi diversi hanno lettori diversi sono ogni anno non sono mai stati coordinati non sono mai state coordinate le elezioni ci sono primi ministri che magari dopo un po' di anni cominciano a avere e poi scadono arriva un altro bisogna ripartire è un casino poi a livello italiano io credo che abbiano messo in atto guardiamo i numeri sono numeri importanti sia per la liquidità sia tutta una serie di manovre che continuano a affinare io credo che adesso la cosa importante è scaricarla a terra quindi quello di cui oggi c'è bisogno è scaricare a terra tant'è che prendendo la domanda che ti è arrivata e stendendolo un attimo a quello di cui secondo me c'è bisogno adesso veramente c'è bisogno di un approccio di paese insieme convinti prendendo 3-4 priorità non 20 3-4 priorità per fare in modo che l'Italia diventi più competitiva la prima secondo me e si lega alla domanda che ci è appena arrivata la burocrazia dove si metta come priorità la prima sicuramente metterei la burocrazia io metterei anche il mezzogiorno perché pensare che un paese come il nostro abbia delle metriche così diverse fra quello che è il nord Italia e il sud quindi c'è bisogno non c'è dubbio di mettere in atto delle politiche a partire dalla sicurezza semplificazione infrastrutture e quindi trovare anche dei modi per incentivare gli investimenti nel mezzogiorno perché le aziende devono andare lontane quando forse potrebbero anche essere accompagnate con degli incentivi sia su gli investimenti anche sia sul proprio su quello che sono il costo delle risorse dell'esorso mare e quindi penso che e poi anche i tempi della giustizia perché soprattutto a livello di investitori esteri io adesso lavoro con un fondo canadese una delle prime cose che chiedono sono proprio per la fine un tema di semplificare e quindi chiudo con la domanda gli strumenti ci sono poi quando uno ascolta le varie categorie c'è sempre qualcuno che dice io non ho avuto abbastanza e non sto a scendere nel dettaglio se no prenderemo per mezz'ora però penso sia di andare per priorità perché ci sono oggettivamente alcune aziende che hanno settori che patiranno più di altri quindi bisogna dare priorità a questi e poi soprattutto scaricare a terra i sussidi e la cassa integrazione devono arrivare la liquidità tramite le banche tramite le sace deve arrivare tutte le altre manovre che sono state proposte devono affrontare interparlamentari rapidi e arrivare alle famiglie e arrivare agli imprenditori perché abbiamo bisogno poi alla fine di ricostituire un senso di fiducia senza il quale senza fiducia senza un senso positivo del futuro è difficile Vittoria Guidi su questo ti chiede dove sarebbe più utile dal punto di vista economico investire i soldi del recovery fund se tu se ti chiama Conte che magari t'ha chiamato Conte non t'ha chiamato Conte t'ha chiamato Conte ma non è possibile ho parlato Fabio con 200 persone in questo periodo e Conte non ha chiamato nessuno l'unico che mi ha detto guarda me Conte non mi ha chiamato ma mi ha chiamato il papa è stato Petrini di Slow Food non mi ha chiamato il papa però Conte non lo so ma chi ha chiamato Conte avrà chiamato qualcuno mai nessuno non è mai stato contattato comunque se ti chiamasse Conte e ti dice Fabio allora dove li mettiamo questi soldi da dove parto dimmi tra i posti dove metterli quali sono dal tuo punto di vista io penso che si debba accompagnare un percorso di rilancio infrastrutturale del paese noi abbiamo un ritardo infrastrutturale importante non è colpa ovviamente né di questo governo non è buon nulla né di quelli precedenti è un tema atalico e quindi c'è bisogno e sulle infrastrutture cercherei di guardare come siccome ha dimostrato di fare molto bene alla Germania proprio in queste ore di scegliere quali sono gli ambiti prioritari cioè dove metto questi soldi che arrivo anche tramite forme di incentivazione o di disincentivazione perché c'è anche il disincentivo a livello di politica e io cercherei di andare a vedere quelli che sono i temi legati all'ambiente il tema della trasformazione energetica che si porta dietro mettere in sicurezza le scuole il tema dell'education e dell'educazione è fondamentale per il futuro nostro i nostri figli forse sono degli investimenti più importanti a partire proprio dalla sicurezza fisica degli edifici e poi in maniera attenta parlando con degli esperti parlando con degli esperti quindi tutte le varie commissioni che ci siano poi persone non solo capaci per bene ma che siano esperti vedere con priorità corrette quelle che sono gli ambiti su cui c'è più bisogno quando vedi ecco ti passo un commento ad esempio al volo Antonella Magnani che dice il nostro debito pubblico è già per definizione sostenibile quando ecco vedi è già per definizione scusa non ho sentito insostenibile insostenibile no? quando ad esempio si parla senti nei talk show televisivi ecco perché il debito pubblico eccetera cioè com'è la situazione dal tuo punto di vista oggettivamente nel senso nel momento in cui se io prendo il debito pubblico dovessi spiegarlo ai miei figli di 6 e 10 anni i due più piccoli cioè gli direi oh guarda qua c'è è come se noi avessimo un debito di 3 trilioni ok? cioè prima o poi lo dobbiamo ripagare o ce lo azzerano prima o poi da qualche parte o lo dobbiamo ripagare quindi la cosa che uno spesso non capisce è come si fa a ripartire se c'hai questa zavorra alle spalle così gigantesca senti Anna Carienina inizia dicendo tutte le famiglie felici si assomigliano quelle infelici lo sono ciascuno a modo proprio a modo suo noi siamo un periodo infelice per l'economia perché vediamo le prospettive di crescita del prodotto interno lordo sono drammatico ovunque per questo 2020 l'abbiamo visto a partire dalla stessa Germania noi in più che cosa abbiamo ecco perché siamo infelici perché abbiamo proprio questo carico a cui fa riferimento la ragazza che c'è Antonella Antonella che è il vero tema questo è il nostro problema io sono convinto che il nostro tema direi due cose uno il nostro debito è sostenibile è sostenibile non insostenibile per il semplice fatto che abbiamo le risorse come paese soprattutto se faremo le riforme per venire a capo di questo debito che finora ci ha impedito di crescere come avremmo potuto fare e sicuramente è anche cresciuto perché non ci sono state delle politiche serie per riportarne un alveo migliore se vogliamo anche una prova di come funziona in altri paesi diciamo super evoluti il Giappone è un debito pubblico che è molto più alto dipende ovviamente anche da chi è detenuto questo debito pubblico sempre di più in Italia il debito pubblico è detenuto dalle famiglie o dalla banca centrale europea quindi in qualche modo sempre tramite soldi nostri questo però io lo vedrei poi siamo un paese ricco quindi siamo un paese ricco dove c'è una ricchezza privata straordinaria per cui il rischio che noi non abbiamo se non ci saranno politiche eque per rimettere in sesto diciamo la competitività del paese e per rimettere per rimettere le riforme di cui abbiamo bisogno noi abbiamo il rischio che questo debito pubblico continuerà a mangiare risorse improduttive che dovrebbero essere messe invece a quegli investimenti quindi noi abbiamo bisogno adesso per uscirne di una serie di azioni anche di medio e lungo periodo perché gli investitori vogliono sapere non se lo paghiamo fra un anno o due hanno sottoscritto dei debiti a dieci anni abbiamo fatto anche delle emissioni a lunghissimo termine come sai debito italiano quindi ci costa molto di più di nuovo elemento di minore competitività ovviamente noi adesso abbiamo proprio bisogno di dimostrare nei prossimi mesi di essere capaci di mettere in atto dei piani d'azione su secondo me poche priorità per far capire che il paese può riprendere un percorso di crescita è vent'anni che non cresciamo se non capiamo la gravità della situazione e qua deve essere uno sforzo di tutte le parti in primis della politica tutte le parti politiche e ovviamente anche di ciascuno che ha un ruolo importante che ha delle responsabilità perché comunque sia se noi non sfruttiamo questo continueremo a crescere per vent'anni dello zero virgola continueremo a pagare le cedole però non daremo speranza ai giovani sarà un paese sempre meno competitivo a proposito di giovani guarda Fabio questo commento qui ecco quando vedi i commenti Giuseppe che dice ma chi controlla queste cose perché questo secondo me spesso è anche la confusione che hanno le persone che non sanno bene chi è che decide allora si iniziano le teorie complottistiche poi cose i poteri i grandi poteri il patto di questi cioè alla fine dei conti chi è che smuove secondo te una situazione come questa dell'Italia cioè c'è oggettivamente nel momento in cui ci fosse il governo dice ragazzi si fa così queste sono le misure si va ma c'è la possibilità oggettivamente di rimettersi in movimento o ci sono poi appunto l'Europa e cose l'America cioè qual è la scacchiera del potere che in un qualche modo bisogna smuovere secondo te per fare ma io faccio osservare che il piccolo Portogallo che era mezzo scassato nell'ultima crisi o l'Irlanda si sono riboccati le maniche hanno chiesto dei sacrifici importanti però hanno fatto le cose giuste e sono riprese a crescere non so se tutti lo sanno noi è un anno e mezzo che paghiamo sul nostro debito pubblico un tasso più alto non solo della Spagna ma del Portogallo questo non sfugge noi tutt'oggi finanziamo noi è un anno e mezzo che paghiamo più del Portogallo quindi perché prendo il Portogallo perché hanno avuto lì crisi economica crisi politica erano saltate le banche idem per l'Irlanda quindi non c'è dubbio che non possiamo dire che non dipenda anche dai singoli paesi quindi l'Italia deve fare quello che deve fare e credo che non è tanto un tema di vedere le priorità perché se uno sente l'economista A o quello B o sente il World Economic Forum o il Fondo Monetario più o meno ci sono quelle 5-6 cose da fare bisognerebbe cominciare a partire con grande concretezza metterlo a posto l'Europa ha un ruolo ovviamente perché noi siamo inseriti nell'Europa e quindi non c'è dubbio e si tratta di gestire un rapporto con dei partner grazie ai quali abbiamo un mercato che ha permesso a tutti quanti di essere comunque di stare meglio rispetto a prima che questo mercato ci fosse poi possiamo parlare degli eccessi della globalizzazione ma è un altro tema terzo elemento ci sono i mercati i mercati non è che li controlli ci sono investitori ci sono investitori che dicono se questo debitore è più rischioso io non presto a lui all'1% voglio il 2% voglio il 4% allora qua è la credibilità perché noi paghiamo più del Portogallo perché ci sono degli investitori e non è che ci sono complotti ci sono degli investitori poi possono essere alcuni più aggressivi o meno aggressivi e sappiamo che non è che sia tutto un mondo di acqua azzurra come qualunque ambiente però gli investitori che sono i risparmi di lavoratori il risparmio cosiddetto istituzionale è la pensione essenzialmente dei lavoratori del mondo e il risparmio dei lavoratori del mondo di questo stiamo parlando sono affidati a dei signori che li gestiscono in maniera professionale e devono cercare di quando danno prestito dei soldi di avere un rendimento che sia bilanciato anche lì senza tanti complotti noi abbiamo bisogno di essere credibili questo è un paese che quando è stato credibile aveva uno spread molto più basso di quanto abbiamo avuto in questo periodo basta vedere un po' quello si vedono un po' le difficoltà economiche ma anche politiche del nostro paese ti faccio una domanda che vedo in chat stavo cercando di monitorare tutta la marea di commenti quando si parla di questi argomenti chiaramente hai mille mille opinioni come anche su altri argomenti dimmi una cosa le banche l'altro giorno mi è arrivato mi è arrivata una lettera cartacea che apro sempre che quando arriva una lettera fisica penso sempre caspita davvero ancora si mandano le lettere cartacea quindi l'apro con un grande interesse ed era una delle banche mie che mi manda questa notifica dicendo allora su questo conto corrente dal prossimo mese l'interesse sarà non lo so lo 0,000 non lo so e sono tutti questi zeri e allora mi è venuto in mente quando ero piccolino che i miei genitori dicevano oh mi raccomando metti via dei soldi metti in banca che poi c'hai il 6% l'8% il 10% cioè li tieni lì poi l'interesse composto e i libri che avevo letto no perché poi il compound interest e poi tra 25 anni c'hai 7 miliardi e cioè oggi è sparita quella roba lì quindi vedo anche in chat grande confusione su questo su dove dove li metti oggi i soldi se in banca c'hai interesse praticamente 0 o negativo purtroppo purtroppo così come come forse tu sai comunque come si legge sui giornali ed è vero le banche quando depositano una parte della loro raccolta quindi dei loro fondi a Francoforte pagano noi siamo in un mondo non convenzionale perché lo vedi quante cose non convenzionali ci sono in sto pericolo il denaro a tassi negativi abbiamo avuto il petrolio che per motivi completamente diversi hai visto in America era negativo il barile è andato in negativo perché c'era un tema di storage quindi di deposito invece al risparmiatore purtroppo oggi non è un momento facile perché abbiamo i mercati che si è iniziali azionari che sono ripartiti alla grande tenere sul conto corrente a malapena ti protegge da un'inflazione che non c'è più perché non dimentichiamoci che i tassi sono bassi perché non c'è inflazione quando avevamo i tassi a 10 avevamo un'inflazione che era pochi punti sotto siamo entrati ormai da tanto tempo per una serie di motivi in un ambito disinflazionistico con la politica monetaria che sprona le banche a imprestare a famiglie a imprese per i loro investimenti la casa i prestiti personali nel caso delle famiglie e gli investimenti nel caso delle aziende per cui quello che c'è da fare è capire bene qual è l'ottica di investimento e se un'ottica di investimento come dovrebbe essere di medio e lungo periodo avere anche una parte di liquidità affidarsi a qualcuno esperto e capace perché era più che da lì o qua andare da qualche esperto che di cui fidarsi che ti faccia un portafoglio diversificato anche in funzione del tuo grande rischio delle tue esigenze di liquidità e della tua ottica di investimento perché effettivamente è proprio cambiato è un universo che è cambiato è cambiato completamente qua c'era invece un altro cerco di riassumerti quelle sole domande insomma che vedo più ricorrenti insomma approfittando della tua esperienza e ovviamente un po' tipo jukebox spaziamo da un argomento all'altro in modo randomico Flat Tax chiede Nico LF Flat Tax patrimoniale condono fiscale tutti assieme potrebbero dare sprint all'economia italiana a volte esce il tormentone sui social che va virale ecco arriva la patrimoniale frizzano tutti i conti correnti preleveranno forzatamente non lo so insomma è una paura che vedo spesso girare ed è un argomento che vedo spesso girare no io non sono favorevole alla patrimoniale e sono invece a favore di una seria campagna contro contro l'evasione noi LC qualunque stima di qualunque centro di ricerca dimostra o stima in qualche modo l'evasione su numeri che sono talmente grandi talmente grandi che noi potremmo avere l'alta velocità dappertutto le scuole messe in sicurezza in tutto il paese le coste tutti i temi idrogeologici la transizione energetica da quella che è l'evasione quindi lì è una riflessione che non deve soltanto fare la guardia di finanza e il governo ma devono fare anche poi tutti quanti perché purtroppo sappiamo che questa economia per quanto qualcuno dice in parte giustificati in alcune regioni d'Italia o in alcuni casi a prescindere dalla regione comunque sia non è accettabile siamo oltre il livello fisiologico rispetto anche ad altri paesi europei non sto a confrontarmi con altri siamo altri siamo proprio fuori dalla norma ma anche solo con altri paesi europei abbiamo un livello di invasione lì è il vero e tra l'altro è una battaglia di civiltà qua invece la mia Inghilterra e il mio Regno Unito dove abito ormai da un po' di anni come ci vedi adesso brexittati post-covid così o tua opinione spassionata un suicidio la brexit il modo in cui hanno gestito il covid all'inizio molto strano volendo essere british boris boris no poi probabilmente c'è stato un episodio personale che ha portato a rivedere tutto anche alcune decisioni recenti su covid la quarantena che scatta dall'otto postuma che francamente non ho capito ci ho detto l'Ighilterra è sicuramente è sicuramente un grande paese sicuramente è un po' indebolito dalla brexit sicuramente c'è ancora una grande incertezza su come sarà questa brexit perché riusciranno a farla entro fine anno boris chiederà probabilmente non ci sono i tempi chiederà un'estensione oppure dirà o è così o è no deal quindi usciamo il cosiddetto hard brexit quella dura e allora io penso che lì potrebbero esserci ancora alcune situazioni però secondo me prima della brexit l'Ighilterra aveva il migliore dei mondi perché era dentro la comunità europea ma aveva la propria moneta e la propria banca centrale poi credo che qua un certo populismo e certamente anche che non populisti magari non erano nel loro cuore ma sono stati in qualche modo sedotti da questa idea hanno creato una situazione che secondo me secondo me pagheranno in qualche modo dimmi come ti tieni informato per avere la migliore visione del mondo possibile dal tuo punto di vista chiaramente per essere informato su questi temi economici essere informato sull'attualità hai delle fonti di informazione o della una tua dieta mediatica che ci ci puoi suggerire nulla di particolare leggo i giornali cerco sempre se devo comunque leggere un giornale solo sfogliarlo cerco sempre di capire cosa succede nel mondo quindi adesso con internet anche solo vedere la pagina ogni giorno di quello che succede in Europa quindi andare dal paese andare scegli tu quello che vuoi in Inghilterra The Guardian e via dicendo è una cosa che faccio sempre mi leggo delle ricerche e poi quello che faccio ma da sempre io parlo con gli imprenditori io ho avuto la fortuna in 30 anni che lavoro di conoscerne tanti ho sempre caduto molto nel concetto di the field cioè stare sul campo e quindi quando potevo e un po' di tempo andavo a trovare nell'azienda andavo a trovare sul territorio e quindi se tu parli con questi signori qua ti dicono come va il mercato della piastrella il mercato dell'auto che sia fornitori che siano poi produttori e hai la possibilità di mettere insieme oltre ad avere relazioni con persone che stanno un po' in giro per il mondo che possono in qualche modo la presenza locale anche in questo caso the field è molto importante non basta solo leggere i giornali ma bisogna poi parlare con qualcuno che abbia un ruolo Andrea San Giorgio da YouTube invece ti chiede se hai dei libri che consigli se tu dici guarda assolutamente bisogna leggere questo libro questi tre libri c'è qualcosa di particolare? sì te ne racconto allora i romanzi a parte riporter e no scherzo è il nome della rosa furore di Steinbeck per me è il mio romanzo preferito di un'attualità straordinaria potrei potrei intrattenerti un'ora solo sui paralleli fra questa storia fra l'avventura della famiglia Jode e il mondo attuale io dopo i 40 sono riuscito a finire Memorie d'Adriano che avevo iniziato quando ero al liceo e non ero riuscito a finire quello lo trovo Memorie d'Adriano Yur Senar Margherita bravo l'ho sparata così a caso non è andato il texter esatto adesso lo ricordo va bene per riflettere sull'uomo a livello di business ho trovato per me preziosissimo ma l'ho letto credo quasi 20 anni fa Straight from the Gut l'ho letto in inglese non so come si pronuncia di Jack Welch che è il mitico uomo che è morto che è morto poco tempo fa che ha fatto General Electric per uno che voglia capire come è il mondo aziendale quindi più da manager che non da finanziere perché General Electric aveva anche poi un ramo finanziario ma è stata la più grande conglomerata industriale e anche quella più di successo nel mondo sotto la sua leadership interessantissimo e poi come biografia mi è piaciuto molto parlando di cose un po' più recenti quella dell'attuale chairman di Disney Bob Iger The Ride of a Lifetime interessantissimo e per chi ama la finanza non perderei Too Big to Fail per capire cos'è successo nella crisi finanziaria di Lehman molto interessante poi se ne voglio un quarto per chi vuole fare poi l'investitore ho letto recentemente quello del fondatore di Blackstone Steve Schwarzman ed è anche quello un bel libro sei il secondo a suggerirlo questo non mi ricordo chi era il primo forse Claudio Costamagna forse ha suggerito anche lui può essere devo dire che Bob Iger mi ha molto colpito ho visto su masterclass.com la sua masterclass e mi ha molto colpito lui perché comunque insomma capisci perché un tizio così era in grado di gestire un universo come Disney insomma non è una cosa così così semplice però Fabio tu come dire hai gestito e gestisci realtà anche molto grandi cosa fai quando entri appunto tipo in una banca dici eccomi sono qua c'è la riunione ragazzi sono arrivato quali sono diciamo qual è la tua scaletta di cose da fare a prescindere dai problemi specifici o dalle opportunità specifiche di una realtà però hai in mente diciamo il tuo metodo d'approccio per dire ok c'è un problema questa azienda la devo condurre far crescere da dove parto? ma la prima cosa che anche dico a tutti i nuovi colleghi che anche manager che sono venuti a lavorare con me prenditi del tempo per capire dove sei atterrato quindi un esercizio di contestualizzazione che non vuol dire solo conoscere il business riconoscere la cultura la storia le abitudini le cose scritte non scritte questa è una cosa più importante e poi come regole più spicce io dico sempre innanzitutto le persone quindi passare molto tempo con le prime linee le seconde linee io ho gestito business che erano nazionali sul territorio quindi andare a incontrare nel nostro caso i capi delle filiali per capire com'è fatto il territorio come sta andando quindi prendersi il tempo per conoscere il territorio persone territorio e ovviamente studiare il mercato capire chi sono i tuoi concorrenti perché tu stai andando meglio stai andando peggio quelle che sono da fare però in generale il 95% dei business hanno un impulso straordinario dalle persone quindi io diciamo delle attività più preziose per me anche quelle che mi portano via più tempo era quello di cercare di capire com'era il livello di motivazione delle persone e penso che il modo migliore per motivarli sia coinvolgerli per il semplice fatto che una persona che ha un diciamo un valore un potenziale di 100 se è motivato ti dà 200 se è demotivato ti dà 0 tende a 0 e ogni tanto basta anche solo farli sentire parte del progetto farli sentire importante e quindi in questo caso anche la delega è fondamentale poi io ho gestito anche in realtà di 20.000 persone non è che la mi sta legato che le gestisca tutte e 20 per cui quando ti dicevo le persone la prima linea la seconda linea devono avere tutti gli stessi valori devono essere tutti allineati perché se in qualche direzione tu hai una persona che non dico re mi contro ma semplicemente non è allineato come comportamenti come valori e nel mondo dei servizi è fondamentale quello dicevo prima la motivazione quella persona non sono io che lo metto fuori è lui che si mette fuori da solo perché poi il rischio è che il messaggio che arriva di valori sentono magari qualche volta una o due volte all'anno uno mi sta legato in una convention oppure lo vedono in video lo sentono scrivere e poi vedono che le cose non sono così e questo non va bene e soprattutto in società di servizi che non puoi sostituire con una macchina tu hai bisogno di persone che siano cariche motivate e che vedano coerenza nell'esempio di tutte le persone a partire dall'amministratore legato ma tramite il messaggio legato di tutti l'esempio è la cosa più importante io ho visto che sei anche in un sacco di board e io mi farei due palle così a fare tutti non so i board e i cosi le robe i verbali cioè io vado fuori di testa su quelle robe lì si vede proprio il mio carattere come gestisci tutti questi board dove poi magari c'hai gente che si azzanna si discute insomma come funziona ma guarda se hai visto non c'ho più un board di una banca perché si le amministrazioni delle banche ultimamente sono diventate dei consensi in cui si parla enormemente di regole rischi compliance e controlli e molto meno di business ma non per colpa del board dell'amministratore legato perché la regolamentazione è diventata oggettivamente molto rilevante diciamo appena appena fatto un plauso la regolamentazione che ha permesso alle banche di essere anche più solide però diciamo che c'è molta di fuori potrebbe dire c'è molta burocrazia per cui ho preso dei business industriali i business industriali sono 4 all'anno e si parla solo di business e quindi penso anche che una delle attività che ho svolto e che mi è servito moltissimo in questi anni proprio perché stavo in banca è di andare nei consigli di aziende industriali perché uno non è solo curiosità intellettuale è proprio che impari vedi cose nuove e poi ti stupirà ma puoi anche portare del valore non solo sulla finanza o dove va il cambio o dove va il tasso di interesse ma proprio in un ambito di un settore che negli ultimi dieci anni quello bancario si è ristrutturato enormemente diciamo che nella nostra realtà soprattutto sotto BNL e per Paribas abbiamo adottato anche una serie di strumenti mutuati dall'industria che in molte industrie italiane non c'erano per cui potevo fare in qualche modo anche portare la mia esperienza in quell'ambito per cui non mi annoio in quei consigli ok e rispetto al covid a pre-covid hai cambiato magari dei piani dei progetti che avevi in testa oppure quello che avevi in testa di fare da qua ai prossimi 12 mesi comunque non è particolarmente cambiato no non è particolarmente cambiato però è chiaro che uno può qualche riflessione in più giustamente se la fa su cosa sei concentrato di più oggi se tu dovessi dire la tua giornata tipo ti alzi la mattina e cosa fai ho visto prima un video peraltro di un fighter che si alza la mattina e tipo per 40 minuti prende integratori quindi immagino che la tua giornata tipo non sia esattamente così insomma quei 40 minuti forse non c'hai 40 minuti a tutte le cose a tutta una serie di ricette no la tua giornata tipo oggi come si svolge e su cosa sei particolarmente concentrato lavorativamente guarda come si svolge non è credo è molto meno intensa vedendo la tua attività in video è molto meno intensa però come credo quella di 90% ormai di chi lavora è molto molto sul video perché devo dire che fra Zoom e tutti gli altri c'è la possibilità di portare avanti dei progetti tra l'altro noto con una puntualità che non avviene nelle riunioni fisiche perché raramente quando dice ci si trova alle 10 qualunque sia dallo strumento se uno arriva alle 10.02 si scusa normalmente non funziona così nelle aziende e poi sono concentrato io da quando ho lasciato poi Cassa Depositi e Prestiti e l'esperienza da Civil Servant ho la mia società con cui faccio consulenza a imprenditori e investitori poi sono l'uomo per l'Italia di Brookfield che è uno di più credo sia il secondo il primo secondo fondo al mondo di private equity e infrastrutture e immobiliare sono canadesi e poi appunto ogni tre mese ogni trimestre c'è un consiglio di amministrazione di quelli che hai visto quindi ho un'attività dopo aver fatto l'investitore il banchiere e l'esperienza servizio del paese più diciamo imprenditoriale ma e la parte immobiliare come la vedi in questo momento perché qua l'altro giorno parlavo e ho sentito due diciamo consule real estate experts che hanno detto uno l'opposto dell'altro cioè cazzo uno ha detto disastro alla fine e l'altro ha detto alla grande andiamo adesso ci sarà l'esplosione in Inghilterra che situazione vedi per il real estate in Italia chi ha fatto il mio mestiere deve sapere un po' di tutto alcune cose va un po' più in profondità vedo tanti esperti noi abbiamo un importante come fondo un'importante presenza nel mondo real estate nel mondo nel mondo nel fondo con cui lavoro è proprietario di più di 50 mall negli Stati Uniti in questi giorni e stai vedendo cosa sta succedendo dopo purtroppo la tragedia ma credo che è inutile che ti faccia grandi previsioni io penso che ci saranno alcune modifiche in generale su come si svolgerà l'attività lavorativa per cui siamo passati da open space tutti in azienda senza un posto fisico probabilmente anche fra qualche anno si starà un po' più da casa e uno forse vorrà avere un posto un po' più riconoscibile e non proprio fra virgolette nomade così come veniva definito e quindi penso che il mondo del real estate legato agli uffici cambierà il mondo della logistica se do come investitore io penso ci sia tantissimo da fare e quindi un comparto se mi chiedi più della casa penso che ci saranno tendenze in analogo a quelle che abbiamo visto finora forse con una rivalutazione dello spazio casalingo per cui chi potrà complice anche i tassi bassi quindi se il risparmio non è stato completamente distrutto per molte famiglie io penso che rivalutare anche un po' anche un po' più lontano magari dai centri città e qua è importante l'infrastruttura e trasporti potrebbe anche immaginare segnati tutti quanti da questa esperienza di rivalutare un po' il concetto di casa che uno aveva immaginato quindi magari un po' più grande più terrazzo immaginando che possa succedere un'altra situazione però come sempre c'è chi può e chi invece farà più fatica e penso in generale il mondo del lusso sarà quello che forse avrà meno difficoltà di partire e vale per tutti i beni compreso la casa ti giro un'ultima domanda e poi ti lascio andare ti ringrazio per questa puntata di questo format che definirei chiedi a Fabio qualsiasi cosa capito a caso perché le domande abbiamo spaziato in qualunque tipo di argomento Andrea Andrea San Giorgio ti chiede quali sono le competenze su cui deve lavorare chi lavora già oggi nel mondo finanziario e abbia voglia di evolvere se tu dovessi suggerire delle competenze su cui puntare ce n'è qualcuna in particolare io penso che il mondo della finanza abbia la capacità di darti forte disciplina e capacità di guardare in verticale grande apertura mentale e soprattutto a seconda di cosa uno fa ad esempio nel mondo degli investimenti decidere prendere decisioni fin da quando sei giovane io avendo fatto l'investitore io ero giovane avevo della responsabilità per un fondo e avevo la responsabilità quindi dei risparmiatori avevi la quota sui giornali ogni giorno avevi anche una pressione competitiva ogni giorno io questo lo considero molto formativo e quindi le regole che darei sono quelle come sempre lavorare duro lavorare con grande curiosità non fermarsi cercare sempre di avere degli spunti per fortuna oggi è molto più facile di quanto non fosse vent'anni fa prendere informazioni e vedere come la stessa cosa è trattata in altri ambiti e quindi con grande curiosità e poi in generale non vale solo per la finanza e se vale più per i giovani avere fiducia in se stessi è un momento secondo me non facile per tutti non è facile per i giovani basta vedere i dati sulla disoccupazione le difficoltà che hanno oggi le aziende a temere i dipendenti ma avere fiducia e osare e osare perché uno può permettersi ancora di sbagliare nei vent'anni nei primi anni 30 è più difficile sbagliare quando uno ha 45 anni ha due figli e una famiglia quindi certamente di osare credere in se stessi e soprattutto farsi un'esperienza internazionale se riescono la cosa più importante sono tutti temi importanti ma dovresti dire comunque quello che fa la differenza sarà sempre molto più facile per un ragazzo brillante farsi un'esperienza all'estero e tornare in Italia che non incontrarlo paga paga tantissimo ormai sono quasi otto anni qua nel Regno Unito devo dire la tua visione del mondo cambia insomma inevitabilmente molto bene Fabio ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata e in bocca al lupo per tutto ci teniamo in contatto grazie grazie a te un saluto a tutti ciao